Salve a tutti ragazzi e bentornati su Ciacchiazioni, io sono Valerio Perrone e oggi voglio provare una cosa che volevo fare da tanto tempo, ovvero la trailer reaction al trailer uscito qualche ora fa di Ant-Man and Wasp Quantumania, il primo trailer completo che ci darà, il secondo trailer completo che ci farà dare uno sguardo a ciò che accadrà e al Kang, il villain principale di questa nuova fase dell'MCU. Ma vanno alle ciance e andiamo a guardare insieme il nuovo trailer di Ant-Man and Wasp Quantumania. Sei un tipo interessante, Scott Lang. Alcoci. Sei un Avenger. Hai una figlia. Ma hai sprecato tanto tempo, come me. Ma a questo possiamo rimediare. Papà! Interessante la versione di Kang. Sono l'uomo che può darti quella cosa che desideri. Sarebbe tempo. Attenzione. Lui può cambiare l'esistenza. E alterare il tempo. Non puoi fidarti di lui. Non mi interessa chi è. Ho già perso tanto. Capito! Lui può darci una seconda occasione. Pericolosissimo questo potere di Kang. Lascia che ti chiarisca le idee. Tu mi darai ciò che voglio. O tutto quello che tu chiami vita terminerà. Stiamo correggitando le basi. È meglio che lei non veda. Avevamo un raccordo. Oh! Credevi di vincere? Modok era Modok. Non devo vincere. Ma entrambi abbiamo solo da perdere. Ma va! Mi dispiace che è sì! Ragazzi qui Kang è veramente pericoloso. Ok. Ok. Riguarderò il trailer. Ma molto probabilmente. Credo di aver visto Modok. E ci aggiorniamo. Vediamo adesso. Riguarderò 4-5 volte il trailer. Per spiegarlo. E cercare nei dettagli particolari. Ma qui si vede veramente. La... Il grande potere di Kang. E credo, credo che sia uno dei villain più pericolosi dell'MCU. Era il momento che... D'essere una scossa a questa nuova fase con un villain che faccia veramente paura. E questo Kang, credo, sia veramente il candidato ideale per prendere il posto di Thanos. Ragazzi, per il momento è tutto. Ci aggiorniamo con l'analisi del trailer. Ma... Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui. E vi invito a seguirci sui nostri cani social Instagram e Facebook, anche YouTube. Appunto, per continuare a seguirci e avere aggiornamenti sul... Nel nuovo video di Marvel, ma anche sui Golden Globe. E questa notte andranno in scena. Vi invito a seguirci sui nostri canali per la diretta della notte dei Golden Globe. Io vi ringrazio nuovamente. Vi lascio tutte le indicazioni qui sotto in descrizione. Seguiteci e ci aggiorniamo al prossimo video. Grazie a tutti.